Buongiorno, sono alle 4.10 e la sesta volta che mi alzo perché dormi e non dormi. Guardate che occhi spiritati, ho degli occhi a igra, sembra che mi ammazzo di seghe. Beh, una giornata. Beh, tento di scherzare un po', sono distrutto, psicologicamente e fisicamente. Sto eliminando degli amici, contatti, delle amicizie perché non so quanti mi hanno chiesto come sto, come non sto, hai bisogno, non hai bisogno, come butta, come non butta, eccetera, eccetera, eccetera. E alcuni mi dispiace, mi dispiace veramente eliminare, perché, boh, per ricordi, per tanti motivi. Però mi rendo conto che alla fine non è amicizia, alla fine non è niente. Non è niente. E allora, per tenere un niente, è reso, cancellato, eliminato, votato via, ciao, da vederci, caputo, come è stesso. Comunque, tento di scherzare un attimino perché sono qua fuori e mi fumo una nascica. Toh, tanto salda a morì. E niente, va beh, sono ancora vivo, questo video lo dimostra. Mi taglio le vene appena finito di girare questa videata e via. Tanto sono già in the hospital, sono già qua nell'ospedale, dormo non qua, nella saletta di sotto, tranquillo, per adesso. E niente, un saluto a tutti. E niente, a chi sparva, a chi giudica, a chi pensa che abbia scelto questa vita, a chi dice guarda sto coglione, a chi pensa colpa sua, eccetera, eccetera, eccetera. Mando lo stesso, un saluto. Ciao. Ciao. Grazie.